Eccoci, buona serata, appuntamento con l'aperitivo venerdì sera, giornata mondiale dell'amicizia, siamo in giro a parlare di amicizia. Io stavo facendo amicizia con questa ragazza e stavo cercando di approfondire un po' di più la conoscenza, a vedere se era libera questa sera, ma pare che sia diventata rossa, è timida. Che faccio? Continuo oppure credo nell'amicizia e basta? Che ci fate in giro per Sondrio? Buongiorno, è il mio compleanno, quindi volevo uscire. È il tuo compleanno? Sì. Gli avete fatto gli auguri? Sì. Regali? Sì. Sono i tuoi amici? Sì. Oggi è la giornata mondiale dell'amicizia, lo sai? Ah già! Seguite il Prince, no cap! Sondrio, vi facciamo se venite a Sondrio! Eccolo qua. Oggi è il tuo compleanno, non ti chiedo quanti anni è, ma la canzoncina gliel'avete cantata? Sì. Allora ce la rifate? No! No? Perché io dovrei diventare tuo follower? Che fai di particolare? Cosa fai di bello? Fammi diventare follower. Sono un influencer. Ma cosa tratti? Che argomenti tratti? Eh, stile, ho capito, vestiti, mi vesto. Vado via subito o posso rimanere vestito così? Sì, puoi rimanere. Oh grazie, grazie. Allora, facciamo gli stronzi. Oggi è la giornata mondiale dell'amicizia, giusto? Sì. Tu sei... Vabbè, te lo dico io. Tu sei uno che guarda lo stile. Sì. Lei com'è messa stile? Com'è vestita? È vestita bene, capito. Lei è vestita bene? Descrivimela, perché è vestita bene? Eh, capito... Dai, dai, descrivimela, descrivimela. Cioè, la maglietta, capito, a me piace. La maglietta piace? Eh... Sì, capito. Innanzitutto, come si chiama il cagnolino? Si chiama Milla, ma non è nostro. È di un'amica. È di un'amica. Aspetta, mi avvicino col microfono. È di un'amica, Milla? Sì. Quando mi hai detto non è nostro, ho pensato... L'hanno fregato, sono portati in... Eh, magari, sarebbe bello, effettivamente. È bellissima. Sì. E ti sei offerta volentieri? Per tenere il cane? Sì. Certo, ma non per questa semi-intervista, in realtà, perché non sono... No, io volevo solo farti una domanda sull'amicizia. Oggi è la giornata mondiale dell'amicizia. È la giornata mondiale dell'amicizia. Lo sai, vero? No. No, te lo sto dicendo io. Infatti, sono qua per questo. Beh, ma devo mettere la mascherina? Ma no, tu no, sono distante. Sono io che proteggo... E lei la proprietaria del cane? E lei la proprietaria... E infatti si è visto che il cagnolino è arrivato dritto. Giornata mondiale dell'amicizia. Amicizia esiste ancora o...? Dipende dai casi. Wow. Tu ci credi? Nell'amicizia, dico. No, nella giornata mondiale dell'amicizia. No, non un giorno solo. Tanti, sempre. Sempre, amicizia. Ma chi trova un amico trova un tesoro? Certo, assolutamente sì. Tu sei d'accordo? Assolutamente.